Con la mostra tradizione e storia del grande carnevale piemontese si aprono ufficialmente le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della regione Piemonte. L'inaugurazione il 22 gennaio a Palazzo Lascaris, alla presenza delle autorità cittadine delle maschere tradizionali dei carnevali storici di Borgosesia, Santià, Ivrea e Chivasso. Dal cuoio degli aranceri di Ivrea al cassù del Mercus Curot di Borgosesia, dalla divisa del corpo dei piferi dei tamburi di Santià al medaglione dell'abbà di Chivasso, la mostra racconta una delle tradizioni più antiche del nostro paese. Una mostra che il Consiglio regionale ha voluto fortemente per cercare di risollevare le tradizioni che hanno sempre portato dei benefici popolari, perciò dei benefici anche diretti sul sociale. I carnevali, come tanti altri eventi sul nostro territorio, hanno ricordi che sono una notte dei tempi, perciò indubbiamente c'è la necessità di imparare dai nostri anziani, dai nostri nonni, ma indubbiamente anche da queste tradizioni popolari che non devono essere dimenticate. La mostra è stata anche l'occasione per creare un'unione tra territori. Borgosesia, Chivasso, Ivrea e Santià per la prima volta si sono incontrate per promuovere la cultura regionale. Il giorno dell'inaugurazione a Palazzo Lascaris, il pubblico ha potuto incontrare le maschere dei quattro carnevali, ascoltare le esibizioni strumentali e canore, conoscere riti che caratterizzano ogni manifestazione. Abbiamo cercato di creare questa sorta di aggregazione, che speriamo sfoci in qualcosa di diverso, proprio per avere la possibilità di avere anche addirittura una promozione mirata, una promozione unica, in modo che chi venga in Piemonte venga non solo per le residenze sabaude, ma venga anche proprio per il carnevale storico, per la sua storia, la sua tradizione. Ognuno avrà un modo diverso di fare carnevale, ma sicuramente sarà un modo per diffondere la piemontesità e far divertire le persone. La mostra Tradizione e Storia del Grande Carnevale Piemontese sarà aperta fino al 25 febbraio alla Biblioteca della Regione Piemonte in Via Confienza 14 e all'Urpo in Via Arsenale 14 a Torino. Martedì 18 febbraio alle ore 21 a Santià, al Palacarvè, gran galà delle maschere dei personaggi. Un momento di festa aperto anche alle maschere dei carnevali dell'intero Piemonte. Martedì 18 febbraio alle ore 21 a Torino.